La diplomazia è fatta proprio di questo. Grazie a tutti. 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 Perché leggi quel libro? Grazie a tutti. 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 Poi, pollo. Padre, pace. Pace. Pollo. Pollo. Padre. Pace. Pollo. Scuola. Uomo. Dimostrazione. Mese. Buongiorno. Padre. Parco. Cibo. 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 Pollo. Pollo. Acqua. Pollo. 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 D Una cosa I colonnelli sono certi. Alto, mangiare, alto, ospedale, cane, ospedale, pol, ospedale. Età Mese Miei Pesce De pesce Crisi Blu Lavare Blu Soldi Tutta Gli Parco Zio Sistema Parco Gli S- Otto Negoziazione Ognuno Del Negozi Ognuno Cena Otto Negoziazione De Nego Ufficio Sempre Fino Noi Fino Sciò Fino Bandiera Opportunità Ospedale Per favore Polli Bandiera Per favore Per favore Oppor Polli Opportunità Resistenza Compleanno Abbastanza Opportunità Resistenza Sì Compleanno Crisi Gatti Potere Ragazze Nuota Crisi Ragazze Ragacche Durante Padre Ieri Ieri Zaino Zaino B B B B B B B B Grazie a tutti.